Matteo Biffoni, sindaco di Prato, presidente di Anci Toscana, l'Associazione dei Comuni, partirei presidente con uno dei provvedimenti del governo più attesi soprattutto da chi in questo momento si trova in un grande stato di difficoltà, le persone che ovviamente non riescono a garantirsi neppure il cibo, quindi per la Toscana sono stati stanziati 21 milioni di euro, riguardo ovviamente alla videoconferenza che ha avuto anche con gli altri sindaci innanzitutto sono abbastanza, queste risorse? Diciamo, sono un viatico importante in attesa delle risorse stabili, come dire, strutturali che devono arrivare dal governo, mi spiego, noi abbiamo, noi tutti i comuni in Toscana seguono attraverso i loro servizi sociali le fragilità, quelle diciamo storiche, mettiamola in questo modo, e quelle continuiamo a seguire, nel senso che chi è stato, chi usufruisce dei servizi sociali ha continuato a farlo anche in questo periodo e continuerà a farlo. Questi 400 milioni suddivisi per tutti i comuni italiani, di cui appunto 21-22 circa in Toscana, servono per aiutare, ampliare quella fetta di persone da aiutare che in questo momento non rientrano nella fascia storica dei servizi sociali, ma che sono in difficoltà perché per la situazione del coronavirus hanno perso il posto di lavoro, hanno chiuso il loro negozio, hanno chiuso il loro bar, non lavorano più con lavoretti stagionali come poteva essere, che posso dire, negli stabilimenti balneari piuttosto che negli stabilimenti sciistici, eccetera, eccetera, che magari tra un po', tra qualche settimana, tra qualche giorno, noi speriamo, trovino la cassa integrazione o altre forme di sostegno, appunto, mi accennavo prima, più strutturali, ma che adesso, per riuscire a passare questa fase di difficoltà, hanno bisogno di un sostegno che si sostanzia in questo buono spesa che noi, tutti i comuni toscani, o attraverso buono spesa, o attraverso appunto proprio la spesa fatta, verrà preparato e verrà consegnato a chi appunto si trova in queste condizioni. Stiamo preparando tutta la documentazione, nell'arco di qualche giorno dovrebbe essere tutto pronto, fra l'altro, proprio è di ieri mattina, il mandato di pagamento che il MEF ha effettuato verso i comuni toscani, quindi, diciamo, veramente in tempi brevissimi si dovrebbe essere in questa situazione. E si è stabilito anche le linee guida, poi, per l'assegnazione dei dauser, dei buoni spesa, o comunque dei pacchi alimentari, diciamo? Beh, sì, a grandi linee quelle che accennavo prima, sostanzialmente chi ha altre forme di sostegno pubblico, pensiamo al reddito della cittadinanza, pensiamo appunto a chi è seguito dai servizi sociali, continua ad avere il proprio percorso. Diverso è invece chi appunto non sta dentro a quel tuo sistema, non ha altre forme di sostegno, ma per la sua situazione personale è entrato nella cosiddetta zona grigia, quella che non ti permette di arrivare in fondo al mese soddisfacendo le necessità tue e della tua famiglia, chi ha figli, le famiglie numerose, chi ha mutui affitti da pagare, chi non ha altre proprietà, insomma, quelle situazioni del genere che verranno prese in carico in questa prima fase appunto dai comuni attraverso questa forma di sostegno. C'è stata un po' poca chiarezza forse nella comunicazione riguardo all'assegnazione, all'anticipazione del fondo di solidarietà, i sindaci invece lo ribadiscono, queste sono risorse che comunque sarebbero state trasferite comunque ai comuni, ma in questo momento, visto che i comuni sono gli enti in assoluto più vicini ai cittadini, i cittadini ovviamente si vengono a rivolgere a voi, ai sindaci, cosa può fare il governo per sostenere l'ente che alla fine è quello di fatto più vicino alle comunità, perché poi c'è il rischio, se questa situazione dovesse ancora prolungarsi, c'è il rischio di mancanza di liquidità nelle casse dei comuni e di conseguenza anche dell'erogazione dei servizi. Cosa fare? Certo, allora, dunque, diciamo questo, il comune, al di là di questi 400 milioni di cui abbiamo parlato finora, il governo ha fatto una scelta di anticipare l'erogazione di 4 miliardi di fondo di solidarietà comunale, e che lo voglio ribadire, come appunto si diceva bene prima, sono soldi che comunque vadano dei comuni. Qual è la differenza? Che di solito queste cifre venivano liquidate intorno a giugno per essere nelle casse dei comuni a luglio-agosto, diciamoci più o meno questo era il periodo, adesso invece sono state anticipate proprio a domenica scorsa, e quindi già il mandato di pagamento sono già stati effettuati e quindi saranno disponibili nelle nostre risorse, diciamo a brevissimo, probabilmente tra qualche giorno. Questo significa per noi un sostegno ai nostri bilanci che in alcuni casi iniziavano a essere in difficoltà, perché come tutte le famiglie, anche nei comuni, quando, considerata la situazione, spendi più di quanto avevi preventivato e incassi meno di quanto avevi preventivato, il tuo sistema rischia di andare in tilt. Questo ovviamente è una boccata d'ossigeno, come lo sono i 400 milioni per il sostegno alla fragilità. Certo è che poi bisogna arrivare in maniera strutturale. Secondo i calcoli del Lanci, il fabbisogno in più rispetto a quello storico dei comuni, si aggirerà fra i 2 e i 3 miliardi appunto per l'erogazione dei servizi, quindi tutti quelli che l'attività che i comuni normalmente fanno, oltre ovviamente a pagare gli stipendi e a tutto quello che un'attività di un comune richiede. Questo sì, più o meno è la richiesta che noi abbiamo fatto al sistema nazionale. Vediamo nel primo cura Italia, quello dei primi 25 miliardi, al momento non è previsto nulla per i comuni. Ci auguriamo, speriamo che appunto nel prossimo, già annunciato da altri 25 miliardi, ci sia un'attenzione anche per noi. Prima giustamente devono andare le famiglie e le imprese, ci mancherebbe altro. Nessuna discussione, fortunatamente almeno per il comune di Prato, ma anche per tanti altri comuni, la situazione dei bilanci regge per un altro po', ma non potrà andare avanti all'infinito. Senta sindaco, una sindaco e presidente, vi farò domande anche in doppia veste. Riguardo ad un argomento molto dibattuto dall'opinione pubblica, dalla politica, dai sindaci, è quello delle misure di contenimento per il coronavirus, tra cui anche le uscite. Lei su questo è stata una cosa, presidente, bisogna rimanere a casa. Invece nelle ultime ore si è chiarito un po' l'aspetto delle uscite anche dei genitori, con un genitore, con un figlio, ovviamente nel perimetro dei 200 metri dall'abitazione. Secondo lei questo è stato un passo falso, oppure no? Lei rimane della sua opinione? Assolutamente sì. Allora, qui fatemi parlare come sindaco di Prato, in questo caso, perché l'Anci rappresenta tutti i comuni e anche se tantissimi sindaci hanno espresso la posizione che esprimo io, non c'è una posizione ovviamente ufficiale. Io penso che sia stato il chiarimento, la circolare del Viminale sia stato un passo falso, un errore di comunicazione, perché si è detto una cosa che succedeva già, perché nessun sindaco d'Italia e nessun poliziotto o carabiniere d'Italia avrebbe fatto la multa a un genitore che porta nel proprio giardinetto condominiale piuttosto che davanti al garage il proprio figliolo. Non è mai successo e non succederà mai. Questa comunicazione si è data, che adesso con un'interpretazione di una circolare si sta cercando di rimediare all'errore comunicativo che è stato fatto, diciamoci lo sommestanno, sostanzialmente ribadisce il noto. Non si può uscire con figliolo se non vicino a casa, però un genitore alla volta. E chi ha due figlioli e chi ha tre figlioli esce quindi un genitore ogni volta con un figliolo e poi la mamma e poi il babbo, negli orari più o meno stretti. Si rischia di rimettere in strada. Adesso io non dico mica che per sempre deve essere così, dico che nella fase stiamo vivendo in cui finalmente, secondo i dati degli scienziati, io non sono né un virologo e né un esperto di statistica, però si vede che finalmente il numero dei contagi e dei ricoveri si sta stabilizzando. Sembrerebbe finalmente che una piccolissima luce in fondo al tunnel si sta accendendo. Non capisco perché ora bisogna iniziare a derogare. Quando stamattina poi il ministro Speranza, che io ieri ho sollecitato il governo su questo tema, mi sono permesso di sollecitare vari ministeri e vari ministri, dice intanto prolunghiamo fino ai 13 di aprile le attuali considerazioni e le vigenti restrizioni. Mi sembra un errore. Io continuo a ribadire questo e oggi lo ridirò ai miei concittadini di non uscire, di non farlo perché i bambini, si sa, io ho un bambino di tre anni, uno di cinque, se escono vogliono correre, vogliono andare ai giardini, vogliono andare sull'altalena, se vedono il loro amico vogliono andare al loro amico, non gliela spieghi. Ho timore dei genitori che quando escono poi si ritrovano e fanno qualche capannello. Abbiamo già ricevuto le segnalazioni da parte dei cittadini, facciamo fatica con i cani, facciamo fatica con i supermercati, le file supermercati. Ecco, secondo me in questo caso si poteva aspettare un altro po'. Lo dico molto onestamente perché io penso che siamo in mezzo a una guerra e in mezzo a una guerra per uscire di casa si aspetta e finisca il bombardamento. Rispetto sempre agli spostamenti, ma anche al monitoraggio, ovviamente relativo all'emergenza coronavirus, c'è il vaglio appunto del governo, dovrebbe essere addirittura da arrivo questa app traccia spostamenti che potrà essere applicata su cellulari, su base volontaria, però anche qui grande divisione. C'è chi dice che c'è il rischio per la privacy. C'è secondo lei in questo particolare momento necessità di una soluzione del genere a livello tecnologico oppure no? Allora, io sono uno di quelli che pensa che l'esercito, l'app traccia spostamenti, il distanziome, cioè chi ha proposto di andare a fare la spesa in ordine alfabetico, siano tutti strumenti che non dovrebbero servire per il semplice motivo che siamo in mezzo a una pandemia mondiale. Allora, io mi domando che cosa deve succedere per mettere nella testa delle persone che quello che stiamo vivendo è, secondo molti, la peggiore situazione che stiamo vivendo dal dopoguerra ad oggi? Cosa serve? Davvero serve l'ordine alfabetico per andare a fare la spesa, l'esercito per la strada, l'app traccia spostamenti? Io spererei di no, ma visto che io voglio tutelare la mia comunità, in questo momento, come ho detto di sì ai droni che controllano per aria gli spostamenti, gli assembramenti eccetera, sono disposto, in questo contesto storico, dopo no, ovviamente quando tutto questo sarà finito bisognerà tornare alla normalità, è chiaro, ma in questo contesto storico se vogliamo essere coerenti col fatto che stiamo combattendo una guerra come molti definiscono, io credo che bisogna utilizzare degli strumenti straordinari ed eccezionali. Questo è quello che penso io, anche se mi auguro davvero che non serva perché siamo noi cittadini che pensiamo che forse è bene fare uno sforzo un altro po' e poi, diciamo, tornare a una sorta di vita normale tra qualche tempo. Pensando all'attuale situazione, ma anche al post-emergenza, ANCI sta cercando di chiudere un accordo con Agri Insieme sul consumo di prodotti italiani. Ecco, accordi di questo genere, che sono sicuramente utili in questo momento, potrebbero essere applicati, secondo lei, anche ad altri settori, veda la circolarità magari dei viaggiatori, parlo del post-emergenza, non soltanto in Italia, ma anche in Toscana, cioè far circolare i viaggiatori all'interno della nostra regione, i toscani che vi sono a Toscana oppure ad altre filiere, ovviamente, ad altri settori produttivi o dell'industria. Oggi ho sentito e ascoltato una proposta, un invito del Presidente del Consiglio regionale Gianni che mi convince molto. Ovviamente la filiera produttiva, quella agricola, eccetera, quasi viene naturale. Consumiamo prodotti toscani, ma ci mancherebbe anche perché sono a chilometro zero e quindi questo ci aiuta. Ma, per esempio, l'idea che quest'estate, se le condizioni ci lo consentiranno, tanto saremo tutti, come dire, di rincorsa, frequentiamo le nostre spiagge, le nostre campagne, le nostre colline, potrebbe essere un'altra ipotesi, riscopriamo e tante opere d'arte sono presenti sul nostro territorio, non solo nelle mete storiche come Firenze o come la Torre di Pisa, ma anche in tanti altri luoghi della nostra meravigliosa regione. Io penso potrebbe essere una modalità intelligente, almeno in questo periodo, per riprovare a dare una spinta a tutto quanto quello che è il nostro sistema. Poi, credo anch'io, sia bello girare il mondo, sia doveroso scoprire nuove realtà e ci mancherebbe altro e essere l'autarchia non è mai una grandissima idea. Ma in un primo momento, certo, provare a fare uno sforzo anche toscano, di noi toscani, può essere una indicazione intelligente, tanto saremo tutti di rincorsa. E in un primo momento, forse, fare questo tipo di riflessione, ovviamente, oltre ai prodotti della nostra terra, diciamo così, delle nostre aziende, anche fare un ragionamento sull'insediamento e sulla circolarità dei trasporti e sulla circolarità del turismo all'interno della nostra regione, può essere una buona idea. Rispetto anche al dialogo che ovviamente ha avuto anche nelle ore scorse con gli altri sindaci, per quanto riguarda poi quello che c'è da chiedere ulteriormente al governo, soprattutto per le famiglie, su cosa si potrebbe reintervenire, secondo lei? Perché le famiglie, anche nel vecchio decreto, magari si aspettavano anche la sospensione non solo dei musi, ma anche magari di altri festi personali. Insomma, qualcosa che dia ossigeno alle famiglie. Al di là di questo, su cosa si potrebbe intervenire? Beh, io penso questo, lo dico in questo modo. Le famiglie fanno parte di un mondo che verrà tutelato, nel senso che soprattutto le famiglie numerose avranno una particolare attenzione da parte di tutte le amministrazioni comunali, attraverso le forme che noi sappiamo. Fra l'altro noi come Prato stavamo lavorando, eravamo in dirittura d'arrivo per la famosa hard per le famiglie numerose e che riprenderemo immediatamente passata l'emergenza. Questo di sicuro. Credo che ci saranno le forme di sostegno, la sospensione dei mutui, come credo che alcuni istituti bancari abbiano già iniziato a istituire. Io penso che la soluzione migliore per le famiglie e non sia rimettere in tasca dell'agente uno stipendio, garantire che o attraverso le forme di sostegno temporane, perso alla cassa integrazione, anche quella in deroga, e soprattutto quando ci saranno le condizioni che i virologi e i medici e gli esperti statistici ci diranno, si potranno riniziare a far ripartire le aziende e far lavorare la gente sia la condizione migliore. Bisogna in modo che il coronavirus non ci tolga neanche un posto di lavoro. Io penso che sia la sfida dell'oggi e che riguarda veramente pianamente tutte le famiglie, al netto di quelli hanno bisogno del sostegno nostro, dei servizi sociali, su cui come dicevo prima non ci sarà in alcun modo un passo indietro. Su questo ci mancherebbe altro. Quella è la sfida. Io penso, se posso rubare un minuto solo, che più che ragionare del quando si apre, rimettendolo questo a chi se ne intende, cioè a chi fa questo di mestiere, io penso che dobbiamo utilizzare questo periodo proprio per ragionare sul come, quali sono gli strumenti, quante sono le risorse, con che modalità si erogano per ripartire, per mettere nelle condizioni le nostre aziende, le nostre imprese, i nostri negozi, i nostri bar, i nostri ristoranti, il giorno dopo in cui i virologi ci diranno che la situazione è sostanzialmente sotto controllo, di girare la toppa ed essere immediatamente operativi. Io penso che questo sia il periodo. Prima di pensare del quando, che speriamo sia il primo possibile, pensiamo al come aiutare le famiglie, aiutare gli imprenditori, aiutare chi ha un'attività commerciale o un'attività artigianale. Una situazione come quella che stiamo vivendo ci ha fatto capire anche l'importanza del digitale, delle tecnologie digitali, su questo la Toscana si è visto, ha fatto un po' da modello anche rispetto alla parte sanitaria delle ricette e quindi insomma si è visto che rispetto magari ad altre regioni aveva investito negli ultimi anni, invece lo scivolone c'è stato oggi da parte dell'Inps, ovviamente milioni di persone connessa, il sito è andato giù ma soprattutto c'è stato il grande problema della protezione dei dati che non è stata assicurata. Credo che si debba reintervenire assolutamente finita l'emergenza sul buon utilizzo delle tecnologie digitali e sulla sicurezza. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Premesso che diciamolo, utilizzo io anzi vi ringrazio chi come vuoi ha continuato a fare comunicazione perché ci permette di diffondere più possibile le notizie anche in un contesto non certo semplice per nessuno di noi, anche per i giornalisti e per chi fa questo mestiere. Inps non è un click day, diciamolo a tutti, avete tutto il tempo per richiedere le misure di supporto, io vi ho preso la cassa integrazione sul sito dell'Inps e non c'è bisogno di assaltarlo stamattina. Detto questo, quello che è successo è increscioso, nel senso ci raccontano, io ho letto sul giornale, francamente non so se quello che è accaduto, ma appunto di persone che accedevano alla pagina ad un altro, insomma un caos totale, cosa che con la tecnologia dell'oggi bisogna cercare di evitare, anche se immagino che sia arrivata una valanga di contatti nel giro di pochi minuti, probabilmente che ha mandato in crash il sistema. La Toscana ad esito degli investimenti e sono stati fatti, la fibra, le connessioni anche in territori più complicati, quelli di montagna, probabilmente qualcosa va ancora rivisto e va potenziato, però insomma si è difesa bene in un contesto emergenziale come quello dell'oggi, avere delle infrastrutture in realtà di connessione come quelle che hanno dato buona prova di sé, almeno fino ad ora, ci ha permesso di risolvere soluzioni non banali, anche comunicative, ma vorrei dire anche di vita, perché voi avete presente cosa significa in un contesto in cui devi stare giornate intere a casa, non avere le connessioni internet, non avere la connessione telefonica efficace, eccetera, eccetera. Io penso e su questo bisogna riconoscere la regione toscana di aver avuto una lungimirante veduta rispetto a questo tipo di investimenti e tante volte sono stati anche osteggiati purtroppo, ma che adesso hanno rivelato tutta la loro compiutezza e tutta la loro forza e la loro utilità in un contesto del genere, che speriamo ovviamente sia unico e ripetibile, ma che purtroppo può capitare. Ora le faccio un'ultima domanda però da sindaco, proprio rispetto a Prato, che diciamo che ora può rappresentare la faccia anche di due paesi, da una parte l'Italia e dall'altra la Cina, due paesi si stanno riscoprendo più vicini, più uniti, diciamo che Prato, la comunità pratese può scrivere una pagina diversa nel post emergenza e come si immagina anche la Prato del futuro? Io diciamo, Prato e questa cosa a me dava parecchio fastidio, come potete immaginare, era dipinta nel momento in cui esplose il fenomeno del coronavirus in Cina come la piaga, l'untore nazionale. Qui si riversava l'attenzione dei media nazionali, dappertutto, carta stampata, televisioni, venivano qui come se qui dovesse scoppiare da un minuto all'altro chissà che. Siamo alla provincia in Toscana con il numero più basso di contagiati, per fortuna, certo c'è anche una dose di fortuna, ma c'è anche un lavoro importante che è stato fatto, controllato 1300 cittadini in origine cinese rientrati dal capodanno cinese, loro hanno dato un esempio alla nostra comunità chiudendosi in casa, chiudendo le loro attività economiche e mandando un messaggio che essendo me è stato recepito anche involontariamente dalla cittadinanza autoctona, diciamo così, che effettivamente era qualcosa di serio, perché quando tu vedi completamente sparire la comunità operosa, molto operosa e molto presente dalle strade, dalle loro attività, il messaggio che passa è che forse è qualcosa di serio. Allora quando noi come amministrazione e come autorità sanitaria abbiamo alzato i toni dicendo ragazzi fate le cose per bene, state a casa, non affollatevi, non andate ai fontanelli, chiudiamo i parchi, chiudiamo i giardini, eccetera, probabilmente la cittadinanza ha recepito anche queste indicazioni in maniera forse più semplice, più lineare rispetto che da altre parti e nel frattempo la comunità cinese ha dato prova di se stessa e quindi anche al netto di tutte le valutazioni, anche di attenzione verso il territorio in cui vive, adesso si sta rivelando fonte straordinaria di sostegno, per esempio a Prato problemi di mascherine, sostanzialmente non ce ne sono, o di strumentazione, perché qui la comunità cinese sta facendo arrivare migliaia di mascherine, quintali di roba, di materiale appunto sanitario che ci permettono di soddisfare o almeno insomma di dare una bella risposta alle esigenze del sistema. Io non credo che sarà tutto rose e fiori dopo, non è che questo automaticamente ci sveglieremo e i rapporti tra la comunità cinese difficili, complicati con quella diciamo prevese, saranno immediatamente risolte come una sorta di favola. Penso però che stavolta un bel passo avanti è stato fatto, credo che per esempio il fatto che le famiglie cinesi riempiono le cassette della posta dei propri vicini di casa con pacchettini di mascherine è un gesto che avvicina. Se saremo bravi a capitalizzare questo clima, questa costruzione che è stata fatta, penso che nei rapporti e nella inclusione fra persone avremo compiuto un bel passo avanti. Non tutto sarà risolto, non tutto sarà a posto, ma sicuramente un passo avanti sarà fatto. Grazie Presidente, grazie Sindaco. Grazie a voi per il lavoro che fate.